Come creare un sito web in modo facile ed ecosostenibile. Site Creator è un servizio che ti permette di creare il tuo sito, blog o negozio online in semplici passi e senza alcuna conoscenza tecnica. Ti basta scegliere uno degli splendidi temi disponibili e modificarlo secondo le tue esigenze, rimuovendo sezioni, aggiungendo app, inserendo il tuo logo e tanto altro. Una volta finito puoi scegliere il tuo dominio e pubblicare il sito in pochi semplici passi. E Site Creator oltre che semplice è amico dell'ambiente perché a differenza degli altri web builder è prodotto nel cuore dell'Europa favorendo l'economia locale da Infomaniac, un'azienda indipendente che utilizza solo energia elettrica da fonti rinnovabili e compensa al 200% le proprie emissioni di CO2. Perciò ti consiglio di provare Site Creator. E se vuoi un tutorial approfondito basta scrivermi un commento.